Attenzione! L'IMG ha creato un'arma da piegamento. Ha il potere di distruggere mondi interi, ma senza la sua fonte di energia l'Arca non funziona. La missione è recuperare l'Arca prima che lasci la base aerea. Corbo Marauder, armi pronte! Prepararsi a Titanfall! Per riparo, pilota. Stiamo abbassando quel muro. Attenzione ai canoni! Se non eliminiamo quei canoni, non ci avvicineremo più di così a quella nave. Wilson in posizione. Ce n'è il trombo. I posto accoliti i prossimi carichi. Su qui, comandante Ritz, liberate le api. Fuoco! Aprire il fuoco! A 10, sì. Attenzione! Attenzione! Titan di 10, che siamo messi! Via! 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 Marro posto! Fuoco sui versagli! Il portello è rinforzato! Elk 9, rispondi! Non fermarti! Attacca! Attacca! Mi fermano le porti! Mi stanno contento! Campo dei rinforzi! Elk 7, inverti la rotta! Prendete i versagli e compiteli! Sorte 2! Occhio alle male! Hai tanto la milizia a te! Però voglio stile cavanti! A 10, sì! Grazie! Grazie! Rispiare il piccolo, continuiamo! Aiuto, amico, a terra. Atenzione ai dati a scudo spilling! Ancheci, attenzione, attenzione! Segui un uomo! Dai, non c'è la milizia a terra! Dai, non c'è la milizia a terra! Arrivano altri Titan dell'IMC! Chiamogli una lezione! Avanzate ancora! Via, via, via! Colpiscili forte! Muoversi! Muoversi! Quella nave potrebbe decollare! Elk 4 serve più avanti! Ora! Ecc 4 all'entrata sotterranea! Sezione ai ghiacchi! Attivazione nucleolata! Buon anno! Titan dell'Avilizia a terra! E' ora ti farei un po' di morti dal passo! Senti, ho appena cominciato! Quante vie di testa! Eccolo! Grazie a tutti. 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 Bel colpo, pilota Cooper. Non dobbiamo fermarci. Grazie a tutti. Pilota, pilota, muoversi, pilota. Forza! Ok, pilota. Vengamo testi la cavi contro qualcuno della forza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. Ottimo. Atterriamo, pilota. proseguiamo. Grazie a tutti. 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 Nucleo scarica in uso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci stanno flaccando, ci siamo scontati! l'overse è ottenuto! Hai l'animico a terra! Glorafika pronto! Glorafika attivata! Grazie a tutti. 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 Nucleus carica partito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto.